Anche Fabria non ha mancato l'appuntamento con il Natale, le bancarelle in piazza, l'allegria, i colori e i suoni tipici del periodo. L'evento si è svolto domenica 11 dicembre sotto il caratteristico Castello Cittadino e le zone limitrofe, organizzata ancora una volta da una sempre attivissima proloco dal comune e dai commercianti favriesi, che hanno unito le forze per regalare e regalarsi una domenica rivolta a grandi e piccini. Diversi momenti di spazi che sono stati allestiti nel centro, dove i bambini hanno potuto incontrare Babbo Natale per consegnare le letterine. In sottofondo le note della filarmonica favriese, mentre il spazio è stato dedicato a trucca bimbi, spettacoli di magia, passeggiata con i poni e spettacoli di colbazia. Inoltre per i più golosi, panettone, vin brulee, cioccolata calda e frittelle, che hanno indolcito e scaldato i presenti, salutati da un tiepido sole e da una giornata serena, che ha fatto da perfetto sfondo a questo momento. Momento che anche a Fabria torna ad essere occasione di socialità, di voglia di stare insieme e di avvicinamento al Natale, in un altro anno che non è stato facile per tante famiglie, canavesane e non. Grazie a tutti! Grazie a tutti!